Valorizzare la voce tecnica. Luca è un pilota, ex pilota di Formula 2, tantissima esperienza su tutti i tipi di vettura, ha guidato anche la Formula E e lui ti dirà delle cose che per quanto io mi possa preparare, mi possa studiare, non saprò mai. A Luca basta lanciargli l'amo, apre sempre un argomento, un dettaglio qualcosa che tu non sei in grado di cogliere. Tua bravura è quella di accorgerti che è successa una cosa, che va spiegata, che va valorizzata, ma farlo dire a lui. Aprirli la strada e poi lasciargli spazio perché la voce tecnica ha un grosso peso oggi nelle telecroniche, secondo me deve avere un grosso spazio.